buonasera a tutti e benvenuti a un rapido recap ciclico su cosa è successo oggi in borsa come sapete appunto ieri avevo preso in overnight avevo suggerito di andare in overnight short ci siamo svegliati con un bottino fantastico appunto a 12.150 aveva un livello di algoritmo 12.133 venduto qua abbiamo provato a fare dei rimbalzi con una piccola divergenza siamo andati a salire per far partire il decimo t-3 successivamente chiudendo con il rialzo l'inverso siamo partiti a pioggia giù fortissimi oltretutto qui ho provato una scalpata è andata bene perché l'ho chiusa vicino a questo minimo qua dove avevo l'altro l'alto livello di dax per per oggi ok fantastico perché ho fatto persino 22 punti in più rispetto ai 12.133 che già erano stati quasi toccati tutte le volte in questa zona e poi ci siamo ritornati per altre tre candele anzi quattro se contiamo questa ok successivamente risalita rapida dopo aver fatto appunto il minimo e chiusura appunto con discesa da un po di tempo dicevo se andate a prendere le mie analisi sulla mia home che mi aspettavo la discesa per la chiusura del nostro t più 1 ok il ciclo t più 1 è un ciclo bisettimanale d'accordo per cui avevo già dato anche dei target che mi aspettavo che venisseo raggiunti se riesco vi metto anche un'analisi riservata che avevo messo che non si può vedere se non avete il link si possono fare queste cose su trading view sono estremamente interessanti però se torniamo anche soltanto al non solo 9 di giugno ma anche prima ovvero 8 giugno piuttosto che probabilmente anche l'analisi settimanale sto scoprendo le analisi ok perfetto segnalavo appunto questo discorso di chiusura del t più 1 ovvero del bisettimanale che è iniziato il 14 di maggio e che appunto sta andando in chiusura ed è arrivato alla diciannovesima barra su al massimo 21 oggi diciannovesima quindi domani a mio avviso c'è ancora tanta possibilità di scendere anche perché qui abbiamo avuto la condizione per la ciclica evoluta non per la ciclica normale del lancio di un eventuale nuovo due giorni quindi primo giorno già vincolatissimo ribasso e secondo probabile di nuovo potenzialmente ribasso questa è la mia visione quindi domani attenzione perché venerdì si avvicinano oltretutto le tre streghe la prossima settimana se non mi ricordo male e mi raccomando attenzione perché dopo la chiusura dopo l'undicesimo t meno 3 c'è la possibilità finalmente di rimbalzo quindi venerdì potenzialmente ovvero domani ancora discesa lunedì invece è possibile apertura con gap up per rimbalzo e per far partire un nuovo t settimanale tutto ancora da verificare ma questo dovrebbe essere il piano se l'analisi vi è piaciuta mettete il solito like viceversa non mi seguite